Ben trovati, oggi mi trovo con due pezzi da 90 dello sport, dello sport da combattimento in particolare in Sardegna Giammario Mereu e Toreritu per raccontarvi una storia davvero che dovreste sentire tutti e poi vi spieghiamo anche il motivo per cui sono qua insieme a loro una storia di un ragazzo giovane, maturo, responsabile, in forma, uno sportivo accoltellato con delle conseguenze incredibili per sé e per la sua famiglia Giammario, proviamo a raccontare la storia e poi diciamo il motivo per cui siamo qua tutti insieme Sì, la storia ha un po' dell'incredibile E' stato arrestato ad Olbia, Elia 17 Baby, ovvero Elia di Genova, il 26enne trappera romano già in passato al centro di episodi di violenza scontri e risse amplificate con continui video sui social E' venuto un niente che Fabio stava rientrando a casa perché doveva prendere servizio alle 9 di mattina quindi verso l'una di notte stava rientrando a casa e mentre usciva dal locale ha visto che c'era un po' di movimento e lui conoscendo, avendo anche un trascorso nella security dei locali c'erano degli amici che stavano appunto prestando servizio in questo locale che erano un po' in difficoltà e da lì niente, ha chiesto a uno di questi ragazzi se avevano necessità di un aiuto ma ci sono stati proprio due battibecchi tra la security e questi ragazzi che poi sono stati allontanati dal locale I ragazzi erano dei turisti qui in Sardegna? Erano dei turisti che erano qua in Sardegna sì, a quanto pare appunto avevano avuto una bella serata a detta di chi ha... In discoteca Sì, in discoteca e niente, mentre si apprestava a rientrare appunto nella macchina è passato per una spiaggia quindi per un ambiente buio e lì si è ritrovato gli stessi ragazzi che lui racconta che di un puto in bianco si è ritrovato in terra cioè l'hanno accoltellato Accoltellato, sì Quindi questi ragazzi erano armati in discoteca? Sì, a quanto pare sì anche perché qui hanno acquisito adesso i carabinieri dopo due giorni che si tracciavano la zona hanno trovato un coltello che stanno analizzando appunto l'hanno trovato i cacciatori di Sardegna stanno analizzando adesso i rischi di Cagliari e vediamo se è sovrapponibile con l'arma del delitto E le conseguenze? Le conseguenze purtroppo sono state disastrose perché il fendente ha colpito la vertebra tra T11 e T12 e quindi c'è stata una visione importante del midollo e Fabio niente, dopo un brutto intervento che l'ha tenuto sette ore e mezzo sotto i feri appunto presso il reparto di neurochirurgia di Sassari si ritrova adesso all'unità spinale di Cagliari per cercare, per sperare più che altro nel miracolo Fabio allo stato attuale è a letto con una diagnosi di paraplegia Tore, un ragazzo, uno sportivo poi in particolare proteso a una carriera anche a cui praticamente hanno tolto tutto il benessere fisico ma anche le sue speranze, i suoi sogni Speriamo che con il tempo Fabio abbia la forza e la capacità di sapersi rialzare io ne sono fiducioso perché in primis oltre ad aver fatto un passato di Pugio e lui siamo stati grandi amici abbiamo condiviso veramente tante notti a casa mia è stato vicino nel momento di quando io stavo male nella mia vita è un ragazzo che ha grandi valori poi si è tuffato nel mondo dell'MMA con Gian Mario e vedevo che stava facendo grandi cose e aveva grandi potenzialità sicuramente questo stravolgimento della vita ma lui, ma chiunque, penso a me, a lui per come sono andate le cose ti rivolta a tutto adesso la cosa importante è far capire su quale strada stiamo andando una strada triste non è una strada felice perché purtroppo i giovani oggi molto spesso sono tirati passami da questo stile musicale e a mio avviso il trap non lo definisco neanche uno stile musicale far vedere collane far vedere comunque facilità nella vita e convinzione che le cose arrivino pistole, malavita pistole, malavita cioè è una cosa che non esiste e a mio avviso è un tasto che va sensibilizzato fortemente con lo sport Tievra, fatte tu diri perché oggi è accaduto a Fabio e Fabio era un atleta preparato anche in grado di difendersi anche in grado di difendersi in questa situazione ma se viene accoltellato alle spalle così per un semplice diverbio verbale perché di questo si tratta senza nessun tipo di collutazione veramente siamo alla follia totale più che altro la cosa mi ha toccato sì Fabio come lo è per Tore lo è anche per me è un fratello nel senso che negli ultimi 4 anni e mezzo abbiamo condiviso tante esperienze sportive e non ma mi turba soprattutto da padre cioè il fatto che in Sardegna si stia passi il messaggio che uno può arrivare drogarsi, sbronzarsi, estuprare una ragazza o accoltellare un nostro fratello un nostro figlio, un nostro amico e pensare di poterla fare franca perché appunto ci sono delle grosse lacune in legislatura mi farà brividire appunto da padre di due figlie e questo mi disturba parecchio Fabio come ha detto appunto Tore non era l'ultimo degli sproveduti era uno che molto probabilmente in uno scontro fisico uno a uno avrebbe di certo avuto la meglio anche perché stiamo parlando di un ragazzo che pesa la metà di Fabio ma qua c'è gente che va a ballare nelle nostre discoteche che viene in Sardegna con la pistola in tasca, con il coltello in tasca che dopo che passano una notte di eccessi si permettono il lusso in branco di fare cose inenarrabili mi dispiace tantissimo, ripeto, per l'amico Fabio ma il problema più grosso che vorremmo adesso porre all'attenzione di tutti, dei media ma soprattutto anche dei nostri politici è quella che noi vogliamo in Sardegna delle notte sicure per i nostri figli per i nostri fratelli per noi stessi perché quello che è successo a Fabio può succedere a chiunque per una mancata precedenza per uno sguardo uno sguardo una ragazza Omar Santana e Elia Baby non hanno perso tempo a sfidarsi per stabilire che è migliore ruotato di tutti i tempi ed ecco allora il motivo per cui siamo qua siete qua insieme innanzitutto per una mano d'aiuto per quanto tutti noi possiamo fare poi per un progetto per un progetto futuro sì, noi vorremmo cercare di sensibilizzare appunto adesso abbiamo due grossi problemi uno è che Fabio faceva portiratto e stava cercando di diventare guardia giurata e lo sarebbe diventato a breve ci ritroviamo con un ragazzo che a 34 anni rischia la carrozzina e con esso tutti gli anessi e connessi che portano una disabilità del genere quindi problemi economici ora impellenti problemi economici e problemi logistici perché a Fabio le è cambiata la vita e anche se arriverà il miracolo non sarà imminente quindi dovremo noi attrinzarci per cercare di aiutare Fabio in questo momento sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista economico andrà tutto riadattato allora la richiesta è quella di una mano d'aiuto da parte di tutti genitori sportivi non sportivi ragazzi che desiderano fare qualcosa esattamente come voi sta passando l'Iban a cui poter donare una cifra anche simbolica ma se lo facciamo tutti può diventare davvero una grande mano d'aiuto immediata sì appunto vorrei far capire vorrei far passare questo messaggio che quello che è successo a Fabio purtroppo potrebbe succedere a chiunque e in questo momento siamo disarmati perché speriamo che le istituzioni ci danno una mano a supportare il nostro amico il nostro fratello nel frattempo comunque sappiamo che comunque questi tempi sono lunghi nel frattempo ci stiamo attrinzando noi per potervi appunto dare una mano nell'immediato quindi andremo avanti con due progetti uno che è quello appunto di fare un semplice bonifico chi ha la possibilità nel conto di Fabio e l'altro è un progetto mio personale dove quest'anno che organizzeremo il Colosseum che è organizzato appunto dalla società dove Fabio si allenava e dove Fabio tuttora fa parte tutto l'incasso della biglietteria dell'evento sarà devoluto interamente alla causa di Fabio Colosseum che ricordiamo è un grande evento annuale di MMA che fa uno spettacolo incredibile oramai a livello nazionale e quest'anno sarà a dicembre sì sì lo faremo il 10-11 dicembre e quindi ci sarà un motivo in più per presenziare che è quello appunto che tutto l'incasso che verrà acquisito verrà devoluto interamente alla causa di Fabio e quindi speriamo di vedervi in massa dove? a Porto Torres Tore quindi per chiudere tu volevi lanciare un messaggio di unione perché è quello che state facendo adesso insieme che vorrete fare sempre di più ma che dovrebbero fare poi un po' tutti beh sicuramente l'unione fa la forza qui non si parla di uno sport nonostante pratichiamo sport individuale ma si parla di arrivare a un fine è quello di aiutare supportare un amico un compagno di palestra un allievo ed è un elemento fondamentale anche per fargli sentire la presenza la vicinanza e quanto sia forte la motrice dello sport nei confronti non solo nello sport nei fini del combattimento ma anche nella sensibilizzazione alla surrealità e alla diciamo precauzione nel vivere queste situazioni quindi sarò orgoglioso di farne il testimonial insieme a Gian Mario tengo un punto di domanda come riserva vediamo se in parte attiva o in parte testimonial però a 41 anni mi stimola l'idea di avere più una parte attiva però tutto questo lo potrà solo dire il poco tempo che abbiamo a disposizione purtroppo per questa disgrazia che abbiamo vissuto ci tengo a ringraziare Simone Cicalone e Mattia Faroni che ci hanno dato una grossa mano per la sensibilizzazione di questo caso spostandolo a livello nazionale li ringrazio e li soliciterò e ringrazierò se ci daranno una mano a sensibilizzare la situazione di Fabio perché comunque come sappiamo in Italia la legislatura è molto lunga nei tempi di giudizio però Fabio è un ragazzo di 34 anni pieno di vita pieno di voglia di fare e ha bisogno tra virgolette in tutti quegli handicap che oggi potrebbe ritrovarsi di sentirsi normale perché anche nelle difficoltà è importante lo sport ci prepara a questo sentirci normale sono convinto che Fabio avrà la capacità di fare questo avrendo tante persone che gli stanno attorno vicino e gli fanno sentire il proprio calore e affetto che bello però avere degli amici così fuori è una cosa veramente bella forte e io spero che davvero tutto questo possa generare delle soluzioni concrete e spero di poter vedere Fabio al Colosseum a dicembre stiamo parlando di sé sono andato a trovarla a Cagliari e quello è il sogno più grande nel senso che vorrei veramente che fosse lui fisicamente a incassare la segna della serata perché è stata nella drammaticità della cosa ho visto ho visto un sacco di solidarietà proveniente non solo dal mondo degli sport da combattimento ma da tutto il mondo sportivo e questo potrebbe essere ripeto nella sua drammaticità un punto di partenza perché le cose cambiano perché una cosa la cosa che è successa a Fabio non capiti più né a Fabio né a nessun altro quindi secondo me uniti ce la possiamo fare sia a rimettere un po' in piedi anzi un po' a rimettere in piedi la situazione di Fabio per renderlo autonomo quanto prima ma soprattutto perché lì spero che ci sentano i politici in fase preelettorale perché le cose debbano cambiare aspettiamo adesso che sia il giudice a dire chi è che è stato l'artefice di questo crimine ma se realmente l'indagato è l'artefice la sua sofferenza si manifestava già nei suoi video si manifestava già nel suo vissuto oggi siamo sportivi oggi siamo sportivi dai il banca fa un po' di droga e io mi domando e dico come è possibile che nella discoteca dove ci va mia figlia insieme alla sua amica ci può entrare un pregiudicato con segni di sociopatia evidenti armato di un coltello dal rambo cioè noi vogliamo che la Sardegna io penso che tutta l'Italia diventi una zona franca per i nostri figli cioè noi da genitori o comunque da frequentatori dei locali dobbiamo essere liberi di frequentare il locale e ritornare a casa con le nostre gambe belli e questi sono i valori effettivamente io lo dico sempre quando commento l'evento di MMA di Giammario il Colosseum lo dico sempre perché effettivamente è vero questi sono i valori che ti insegnano gli sport da combattimento che ti insegnano il sacrificio la responsabilità ma ti insegnano anche questi valori di amicizia forte di legame di condivisione e di aiuto speriamo possa servire il nostro e il loro appello e ci vediamo a dicembre al Colosseum grazie 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 Giammario grazie